Grazie Marci deciso e dentro Forza Contate Ma no Ma no Tu sei tu fino Ma no Tu sei tu fino Ma no Ma no Ma no Tu non devi seguire tutti i sport Tu hai di fronte e ti passi il più da fuori Perchè se sta dalla tua parte E quello lì Poi dopo per il resto tu hai il più perfino Se ho il pivot o il perfino Se il pivot va dall'altra parte Allora segui in centrale Dai 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 Sì 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 Ma no Vai a difendere all'alla Metti Marcello in mezzo Mario Marcello Difense in mezzo In mezzo No Marcello Ci metti uno di là e e e e e e e e ma no ma no lui stai lì giù dai attacca 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 Non so, tranquillo. Oggi fai il numero. Fai il movimento, non laverai. Non so, tranquillo. Una partita alla palla. Una partita alla palla. Una partita alla palla. Una partita alla palla.